bello a tutti ragazzi in questo nuovo video di rainbow six siamo ritornati raga con un bel video di rainbow e non una live oggi perché è stata un po una settimana tra virgolette sono passati solo due tre giorni di questa settimana ma è stata una settimana dedicata un po a forte sono uscite delle armi nuove eccetera eccetera non voglio farvi una testa di chiacchiere però non vi preoccupate che le live di rainbow ritorneranno oggi siamo qua con un nuovo video una nuova rank ed quindi startiamo e ci becchiamo in partita guys dai ok raga eccoci qua siamo sul chalet mappa carinissima a parer mio mi piace molto soprattutto se è giocata in modo sistemato con dei buoni amici di team ok oggi siamo da soli però questi diciamo che parlano eccetera maverick e ripari e ripari calmerich ok che stanno parlando troppo per i miei gusti thank you per legge ok a posto ok raga round iniziato loro sono in garage io ho preso toucher perché nessuno aveva preso né toucher né twitch quindi onde evitare di buttare un round così in accesso sbagliato ecco rega perché non gioco da un fottio di tempo arrivo zio arrivo it's knocked on one of the sets no it's not moment oh raga qua ci parte qualche c4 da sopra già lo so ma se dronatevi fa schifo chi è da sopra oh ok il mio amico oh oh che devo non bussare a vettacate che devo non bussare a vettacate che può più Non voglio avere la stanza Non voglio avere la stanza Credibile Sarà da pranzo A me va bene E siamo bene Cazzo Che è che non gioco da tempo Non gioco da domenica A rainbow Però manco che Mi uccidono così Eh cazzo Ma vabbè Vabbè Non esce nessuno Non hanno preso nemmeno uno Jager Niente Gioco l'asso nella manica Peccato Sensore è attivato Sono tutti qua rega Tutti Vaffanculo Sto giro no Sto giro non mi fai Guarda rega mi sono attivato l'inbot contro quello Vabbè A posto Uno uno Parla al centro Di nuovo lago Vabbè Loro ci hanno vinto Quindi non vado da lago Sinceramente Vado da cortile E piglio sledge Stavolta Non taccere come volevano loro Anzi come L'ho preso io Perché loro non hanno preso un cazzo Ok rega Eccomi qua Poi se andate a difendere il posto più brutto di sto gioco In questa mappa Veramente Veramente Andate a difendere il posto qua Senza parole rega No Perchè Stol Perchè 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 mi giro mi giro il tempismo ecco appunto si è perso si è perso regà come immaginavo perchè devono pushare cioè io c'ho un tempismo di merda invece però sto a tre ore là a mirare e vabbè questi sono pure platino cioè si qua contro sono platino regà sono arrivati doc era platino e vabbè vediamo di nuovo pulsi e andiamo sotto per forza il nemico ha individuato il contenitore di biorischio devi cagare la minchia questo mettere le cam già te l'hanno root contento subito bravissimo dai togli delle palle scudo uscita giù sono su Vai in questa zona, il nemico ti scoprirà. Dai, raga, come fanno? Come? Cioè, raga, è impossibile morire contro questi qua così, eh? A posto, raga, hanno vinto, GG. Ok, raga, round è iniziato. Cerchiamo di andare meglio di prima, ragazzo, perché lo sto tiltando ora, veramente troppo. Vedete una cosa. Mi hanno rotto il dell'oro. C'è gente qua dentro, raga. Guardalo, guardalo. Mi ha rotto il dell'oro. Mi fa una cosa. Guardalo, guardalo. Vai, metti la testa. Regà mi fa in pre-fire Con la pistolina No ma io mi devo vedere la kill Questo c'ha gente dietro Mi fa in pre-fire con la pistolina a me A casissimo regà A casissimo 1v1 dai zi Casissimo regà E come difendono strano devi dire Entra regà si è perso Si è perso Ovvio Vogliono andare in biblioteca Andiamo in biblioteca Faccio ad esterno Ok se rutto le palle Ed ecco qua Ok ragà Un tizio da loro è crashato Ci godo Mi rega un cazzo Perché come ho il team di stupidi io Voi crashate Ci godo Per il richiamo E poi vorrei provare a sconfilare Ecco qua Però ho sconfilato da quest'altra parte Lì già c'è Legion quindi Fanculo Con me Lì già c'è E' Mi ha fatto cagare addosso Da dove cazzo stanno arrivando A posto In difesa questi se la cavano Diciamo bene Ma in attacco sembrano gli stupidi A pusha come i maiali Allora Vogliono riandare in biblioteca Ma io lo sconsiglio E vorrei andare in motoslitte Ehm E regà direi proprio motoslitte Ripidio pulse Andiamo in motoslitte dai Posto, regà round iniziato Barrico E poi Spongiro come prima con pulse Dai Ma che senso ha spiegare un nitro così Bandit Cioè Io lo vorrei proprio dire Veramente Attivo il sensore Questi non passano da qua Invece Niente Tanto passi sopra Ma che cazzo sta questo Non so io dove sta Sta sotto qua Da aspettarmi Sicuro proprio E qui sopra E qui sopra il coglione Io vado da cortile come prima raga Vorrei riprendere sledge Anche se vorrei hash Ma ormai questi qua sono hash main Quindi non lo lasciano E niente Prendo sledge Ok raga Devo fare un giro enorme Perché mi sono dimenticato di cambiare Lo spot Però E' vicino dai Oh Sta il blitz Eh il blitz Lo yeager Allora Drono che è meglio Ma Prendete il contenitore Di biorischio Allora raga Questo ci butta C5 Tutti e due Neutralizzate la minaccia Lo sapevo Bel push Ha fatto Cluzz A meno che Bandit Non sia Dove era prima A sto giro no Scemo A sto giro no A sto giro no A sto giro no A posto raga Partita vinta Ho parlato pochissimo Lo so però Sono un po' Tiltato in questa partita Cioè veramente tiltato Siamo arrivati Quarti con 6 2 4 Va bene Potevamo fare di peggio Come potevamo anche fare di meglio Eh GG dai Vediamo quanti punti siamo saliti Vediamo se becchiamo il pacchetto alfa E ci salutiamo Dunque di là c'erano anche degli ex platino Eh raga Voglio solo ricordarvi questo C'erano degli ex platino 2634 punti Un'altra partita E rinandiamo a Oro 3 Pacchetto Dai Bella vittoria Un bel pacchettino ci sta Eh niente A posto Eh niente raga Partita discreta Tra virgolette Un po' di merda Però Ci può stare Dai E niente raga Io Volevo portarvi questo video di rainbow Perché non vi sto portando appunto Live di rainbow Spero che possiate accontentarvi Voi Gran parte Che seguite rainbow E niente raga Cerchiamo di arrivare ai 100 iscritti E così Metto un bel montaggio di rainbow Di quanto giocavo su ps4 Quindi taglie Con le iscrizioni E noi ci becchiamo al prossimo video Bella a tutti raga Ciao